ci siamo ragazzi? ci siamo? siamo cari qui! scarichi e studiati e intro un po' diversa dal solito, buongiorno pescatori siamo di nuovo in uno dei bellissimi spot nei quali ci fa da guida quel signore laggiù che è Mr. Bucco siamo in compagnia oggi anche degli angler tube, Nish e Aurelio e abbiamo anche una new entry di qua dietro di me, Davide ciao Davide un altro degli autoctoni qui del lago e come l'altra volta l'idea è quella di fare qualche pesce io spero di fare finalmente un reale che in questo lago mi sfugge da tempo speriamo, speriamo, proviamo eccolo pure io ci sono, ci sono, l'abbiamo trovato è bello si, è bello 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 piano, piano piano ho scappato corre Alino si, si, si eccolo finalmente bastardo maledetto l'altra volta ci hanno fatto bella guarda oggi l'hai fatto? si raga non va a mucchiate, giratevi, lanciamo tutti davanti qua oh eccolo che fai? eh oddio è comunque bigger di tutti quelli che ho preso a p***a quindi ciao ce l'ho appoggiato sulla pin ok guarda guarda cosa sta quest'opera mi riesce a vedere? è un muro dai razza raga dove fai? quanto sta a metto i lancicri? sentita il boss una cosa così 20 grammi ahahah oddio oddio ragà raga guarda due ho dramatically era grosso un botto mi scusi e lei per il servizio traghettatori e navetta le favorisco il biglietto un attimo che ce l'ho qua il biglietto che poi ci spostiamo eccolo grazie l'abbonamento è un abbonamento sei mesi per sei mesi grazie ok grazie guarda come ce la ride sono molto felice verso marino qualcuno sa che cosa verso marino sotto sì sì dalla parte di marino un attimo Grazie a tutti. 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 Double touch. Manca un po' di... Manca un po' di... Manca un po' di... Eh raga... Bello. Mi ha fatto la ripresa. Mi piace sta canna di buco? 7 grammi. 7 grammi. 7 grammi ma rabbiosa. Azione mega super hyper qua. Vai, vai vai... Vai tutto. Vai tutto. è calato, calato, calato si tienilo che ho passato allo sito anche fermo oh l'ho sentito rendi conto che quando cala ti dà salita, ho fatto il primo giugno di minigallo impressionante comunque è finissimo recupera il meno possibile si capo godo anch'io sinceramente sinceramente anch'io canna di buco, guida buco è un bel pesce bello, 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 grosso godo godo come un po' 6 milioni 6 milioni godo ho slamato va meglio va bene vai che ci stanno ancora sotto cala, cala che vieni vieni, vieni, cala, cala cala, cala, cala ma che buco ce l'ha trovati ma che buco ce l'ha trovati grazie grazie veramente grazie ecco 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 pomeriggio è stata una delle pescate più difficili degli ultimi anni per me è stata veramente difficilissima oggi non tanto perché era effettivamente difficile il lago quanto perché non ero sul pezzo e grazie a questi ragazzi qua angler tube link in descrizione grazie e soprattutto a questo ragazzo qui che mi ha fatto veramente no da spotter cioè mi ha portato sul pesce mi ha dato la canna e mi ha detto piasto pesce porco due è brutto è di bro piasto pesce non posso far altro che ringraziare e farvi capire cercare di farvi capire quanto è bella la pesca se la fai in compagnia di persone come loro detto questo se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace un bel mi piace se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e soprattutto ricordati che senpai si diventa bella